Un caro saluto a tutti e bentornati su Spazio Informazione Libera per il nostro programma Panorama Notizie del lunedì. Eh Alessandra? Sì, del lunedì. Ne abbiamo saltati uno, problemi tecnici, vero? Sì, vabbè, succede, a volte si verificano delle situazioni nelle quali tempo e problema tecnico si sommano insieme e preferiamo, prima di fare pasticci, di rimandare la puntata la settimana dopo. Anche perché non è proprio il nostro lavoro, essendoci un lavoro di mezzo, qualche volta succede, vero? Garantire. Rientri, cose varie, vabbè, vabbè, vabbè. Garantire, diciamo, la continuità è un nostro impegno, ma a volte possiamo anche non farcela per ovvi motivi, chiaramente. Toppare. Toppare. Vabbè, dopo queste dovute scuse iniziamo a entrare nel merito della puntata di oggi, dell'episodio di oggi. Un bel episodio, dai, è vero? Oggi, remember, remember. Sì, ricordi anche tu, no? Punto interrogativo, ricordi anche tu, punto interrogativo, vabbè, questo è, diciamo, il titolo della nostra trasmissione di stasera, perché torneremo indietro nel tempo. Noi siamo due giovani degli anni Ottanta, giusto? Ma io anche un po' Settanta. Anche un po' Settanta. Perché negli anni Ottanta, nell'Ottanta, ne avevo già un bel po'. Sì, diciamo che siamo, che siamo... Vabbè, un bel po', no, sì, sì, i giovani degli anni Ottanta, dai. Sì, diciamo che la nostra gioventù... Ho iniziato nel Settantotto, via io, Settantasei, Settantotto, a essere giovincella. Diciamo che il clou della nostra, diciamo, gioventù ha attraversato abbondantemente gli anni Ottanta. I nostri danni li abbiamo fatti soprattutto negli anni Ottanta. C'è da dire anche che gli anni Ottanta sono stati degli anni fantastici sotto certi aspetti, più che altro dal punto di vista del passaggio che c'è stato, no, dall'epoca del giradischio all'epoca della cassetta e anche del DVD, no, per quanto riguarda la tecnologia, per quanto riguarda anche altre cose, ma tristi anche per altre. Ebbè, sì. Beh, gli anni Ottanta sono stati anche all'indice dell'AIDS, quando l'AIDS non si curava, quando si moriva per l'AIDS e anche per le cause che l'hanno determinata, che sono state la droga in maniera, diciamo, piuttosto prepotente. Prepotente, e anche, diciamo, le cattive abitudini che ancora non c'erano state corrette in qualche modo per quanto riguarda, appunto, l'attività sessuale. Esatto. Quindi è stato un periodo abbastanza triste sotto questi aspetti. Economicamente però l'Italia aveva un'economia e un, diciamo, panorama del lavoro abbastanza lanciato. Non c'erano i problemi che c'erano adesso per trovare un lavoro, per trovare, diciamo, un'occupazione. C'erano anche allora, ma in maniera molto più contenuta. Però oggi andiamo a ricordare degli aspetti di quegli anni, che sono anni Settanta e anni Ottanta, giusto? Settanta e Ottanta, sì. Che ci riportano un po' nella nostra vita quotidiana dell'epoca e agli usi che facevamo di tutta la varie oggettistica e anche la moda, no? Che Alessandra, appunto, ha raccolto in queste slide che stasera vi presentiamo. Io inizierei subito a guardare queste slide e a commentare ogni singola fotografia. Eccole qua con il primo, diciamo... Non potevano mancare, sandalini con gli occhi non potevano mancare. I sandalini con gli occhi e adesso però Alessandra di questi sandalini con gli occhi però ci farà qualche... Chi le indossavano? Io di sicuro, io di sicuro le ho portate tantissimo. Le ho portate tantissimo, si portavano anche con i calzini questi. Sì, e dopo infatti vedremo l'accessorio del calzino con gli occhi. E i calzini traforati che io poi da bambina abitavo in campagna e quindi correvo come tutti i bambini, ero sempre per terra e mi veniva delle palle di ginocchi incredibili e da questi calzini con gli occhi erano veramente una cosa oscena, una cosa oscena perché arrivavano proprio sotto il ginocchio, la palla del ginocchio era ben evidente, sbucciata. Però se vogliamo appunto essere precisi, quindi anche non colpevolizzare questi anni in qualche modo per le oscenità della moda, ne vediamo delle belle anche ai giorni nostri sinceramente. Non mancano, non mancano, infatti poi chissà qualcuno ricorderà le oscenità di questa epoca, che non sono poche. Del primo decennio degli anni 2000 e ora tra poco anche il secondo decennio degli anni 2000. Comunque i calzini traforati. Non li ho portati i calzini traforati? No, non li ho portati, però li ho visti, li ho visti, adesso vediamo una cosa che ci farà discutere un po', il giradischi, intramontabile giradischi, anche se devo dire la verità che anche se questo trovava posto in svariate situazioni domestiche, in special modo tra i giovani che ascoltavano i dischi, noi giovani che ascoltavamo i dischi perché non c'erano altro che quelli. Con le casse attaccate, erano i primi stereo poi alla fine. I primi stereo che, pensate un po', venivano chiamati stereofoni e non stereo, perché stereo è l'abbrevazione di stereofono. Quindi io quando l'ho visto in casa di un amico di famiglia che aveva appunto dei bambini della mia età, vedevamo questo oggetto, i fratelli erano più grandi, quindi fai conto eravamo bambini di 8 anni, 9 anni, io ero amico di questa famiglia che aveva questi bambini e dei fratelli di questi bambini che erano più grandi, che avevano comprato in occasione della loro adolescenza questo stereofono che era composto da un giradischi, due casse stereo, quindi entrava per la prima volta il concetto di stereofonia. Io invece, se posso dire la mia, lo invidiavo tra virgolette a mio zio Maurizio e poi proprio quello che io invidiavo, sempre tra virgolette, l'ho ereditato proprio da lui, me lo regalò poi, me lo regalò ed era uguale, veramente uguale a quello. Anche se però dobbiamo dire che questo non è un oggetto scomparso, perché tutt'oggi sono in vendita, tutt'oggi trovano posto sui banchi dei negozi di tecnologia e quant'altro, quindi naturalmente in versioni che possano essere più o meno vintage, però li troviamo ancora questi giradischi perché ancora oggi non è finita la produzione dei dischi in vinili. Ancora oggi si producono, ancora oggi per gli appassionati restano sempre un supporto interessante, qualcuno sostiene che suonano meglio rispetto a tutti gli altri. Io non me ne intendo, però dice che è tutta un'altra musica. Vabbè, io non ci credo molto. Comunque il bel LP di una volta, insomma, vabbè ci andava anche i 45 giri chiaramente, ma era soprattutto per gli LP. C'è da dire una cosa, che il giradischi, quindi di conseguenza il vinile, il supporto, è un supporto che si è dimostrato nel tempo duraturo, cioè un supporto diciamo che dura nel tempo molto di più rispetto a quanto poteva e quindi può durare una cassetta a nastro e molto di più a quanto pare rispetto ad un DVD o un CD, un CD nel caso della musica, perché pare che il CD non sia poi un supporto così duraturo nel tempo. Ecco, perché comunque si tratta di dati che vengono immagazzinati su questo supporto e che se c'è un danno di una parte di questo supporto si rischia di non ascoltarlo per niente, mentre il disco se c'è un piccolo danno, magari c'era il famoso... Quando inceppavano sopra... Tic, 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 che poteva anche restituire un certo fascino al giradischi, al disco, insomma. Ecco qua, adesso, sempre a proposito di dischi, guardate qua cosa ha trovato Alessandra. Il mangia dischi. Il mangia dischi. Il mangia dischi. E questo si può dire che è proprio sparito. Io mi ricordo questo era... L'avevo verde, il mio era verde, era simile a quello con la tracollina, perché ce lo portavamo dietro dove inventavamo qualche festicciola. Ricordo, mettevamo appunto i 45 giri che andavano in vigore all'epoca, Ramaya, Ucucurramaya, insomma ce lo ballavamo un po' da tutte le parti. E poi anche nelle festicciole in casa mettevamo lì, clac, 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 il lentarello che magari... Mi ricordo che aveva una meccanica così sensibile, io lo avevo da piccino, mi sembra più o meno dello stesso colore, ascoltavo le fiabe della collana dei fratelli Fabri Editori e dove c'era a mille ce n'è questo mondo di fiabe. Io ballavo, io ballavo, ma ero più grande anche. E poi si ascoltavano appunto... Ero anche più grande di te. I grandi successi di Sanremo e pensa che io questo mangiadischio lo portavo un po' al giro per la casa e una notte è partito da solo ed era all'epoca, insomma, sentì una musica in piena notte così che parte all'improvviso, sapeva molto di più di fantasma che altro. In realtà avevo lasciato il disco dentro che si era bloccato ed è ripartito. Sì, sul frigorifero, i frigoriferi dell'epoca dondolavano quando partivano, so se ti ricordi, e quel dondolì aveva fatto ripartire il disco in piena notte. Andavano a pile, eh? Sì, sì, ricordo le varie sincopi. Ed ecco che siamo poi passati a queste. Ecco qua. Io ne ho una marea. E chi non le ha avute una marea? E quando facevo musica era il supporto principale. Queste sono le musicassette che c'erano da 46, da 60, da 90 minuti che potevano essere sfruttate in ambedue i lati ma questa ce ne ricordiamo un po' tutti perché chi è che non ha questa in casa? Chi è che non le ha riavvolte con i lapis? Con la penna o con i lapis? Con i lapis. Che veniva, che si infilava praticamente o con la biro appunto. All'interno dei buchi e si girava così per riportare il nastro in piena funzionalità. E si avvolgeva anche spesso, infatti, in quel punto. Sì, si riportava appunto il nastro in piena funzionalità perché quando le cassette venivano usate in maniera, diciamo, continua spesso si intrecciavano nel meccanismo di trascinamento del registratore e finivano dentro il motore quindi dovevano essere recuperate un po' come si recuperava la cordicella di una lenza da pesca facendo attenzione di non spezzare il nastro perché altrimenti era finita era talmente piccolo il nastro che non poteva essere riparato e queste erano le musicassette e invece adesso vediamo un'altra cosa a proposito di attività sportiva ma chi è che non le riconosce? Ebbè, i pattini a rotelle e questi erano quelli, diciamo, di lusso perché quelli più comuni erano quelli dove si infilava la scarpina personale dentro e ce le leghavamo praticamente alle scarpe le allacciavamo alle scarpe e non avevano proprio un freno in questo modo questi proprio erano quelli con il freno cioè quelli professionali diciamo che erano muniti di rotelle, piattaforma e scarpa e freno davanti erano tutt'uno ed erano secondo me anche molto, scusatemi, assurdi perché se li guardate bene, questi pattini la scarpa sembra proprio una scarpa incollata sopra si, erano messe sopra non li hai mai usati? si, si, ce l'avevo però io mi ricordo che da piccolo questi qui erano praticamente più indicati per le bambine per i bambini si, si, si infatti quando me li comprarono a me fui additato perché avevo i pattini da femmina si, infatti anche vedi le rotelline sembrano rosa si, però vedete sono delle scarpe che sono incollate sopra che sinceramente sono brutte ma io li adoravo io li vedevo a mille carlucci mi pare si, perché era una campionessa di pattini si, perché alla fine il pattinaggio a rotelle era fatto di 4 rotelle e non di 2 perché adesso sono 2 i pattini sono 2 rotelle si, si, si ora mi pare 2 o 4 quante sono? 4 comunque tutte sono messi per verticale giusto? si, si da per verticale in linea retta si, in linea nel pattino classico si, si andiamo a vedere ancora cosa ci ha riservato Alessandra eccole qua e chi non le riconosce quanti polsi ci siamo rotti o frantumati in quel periodo queste erano le famose palline essere un gioco che consisteva nel far sbattere ripetutamente le palline l'una contro l'altra agitando la mano mi sembra le palline clic clac si, ora non mi ricordo si, mi pare le palline clic clac poi i più diciamo quelli che avevano comprato queste palline riuscivano anche a fare delle acrobazie un po' più particolari che erano quelle di far sbattere contemporaneamente da sopra e da sotto ma tutti quello lo sapevano fare però quando le lo scopo della pallina era da sopra e da sotto non da farli fare clic 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 quello lo sapevano fare clic 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 da qua e boom 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 e poi naturalmente sbattevano sui polsi creando creando sinceramente anche dei problemi per chi appunto se le sbatteva in maniera diciamo forte ecco queste sono le palline clic clac giusto? clic clac mi pare sì 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 ecco qua eccole qua le miglie da spiaggia quelle in plastica quelle in plastica che ce le scambiavamo anche e dentro c'erano o i giocatori di calcio io ricordo io almeno quelle che sì i giocatori di calcio ma soprattutto io ci ricordo i ciclisti i corridori di bicicletta i ciclisti Gimondi, Mers Gimondi, Mers e queste qui so se vi ricordate come venivano utilizzate spesso sulla spiaggia si prendeva l'amichetto il fratellino minore o qualcuno per le gambe si tirava con il culetto questo appoggiava il culetto sulla spiaggia e si faceva la pista e si faceva la pista praticamente con il peso tirato per le gambe il fratello minore o l'amichetto strisciando si faceva una pista nella quale far correre queste palline a suon di dita a suon di dita tac 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 si poteva fare un tiro a testa giusto? si no non ricordo c'era c'è chi faceva un tiro a testa chi non sbagliava vabbè allora se uno io mi ricordo le regole erano queste chi arrivava prima in fondo faceva uscire la pallina dalla pista la pallina doveva riposizionarsi nel punto in cui usciva no indietro sì non doveva tornare indietro vabbè poi ognuno aveva le sue fantasie diciamo no no non doveva tornare indietro cioè credo di no credo che si riposizionasse nel punto in cui usciva per rientrare in pista giusto? per rientrare in pista chiaramente se uno usciva subito dalla pista faceva avanzava soltanto di qualche di qualche centimetro ecco non di più e poi magari ribaltava dalla parte di là però sai ognuno aveva le sue regole poi quando si gioca con le palline cioè poi alla fine ognuno dettava le regole a seconda del gruppo che appunto intendeva fare la partita e se ne vedeva diverse e io mi ricordo ah dove si trovavano queste palline? dal giornalaio? no no o nei negozi di giocattoli al mare? neanche neanche sì nelle bancarelle che c'era e dove le trovavi tu? si trovavano nei distributori automatici si metteva 100 lire si girava cra 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 è vero e usciva la pallina sì ma ce le avevano anche quei giornalai viaggianti ce le avevano mi sembra in sacchetti in sacchetti da 10 da 20 perché poi c'erano anche le biglie di vetro sì accidenti però mi ricordo che queste qui stavano nei distributori automatici le biglie di vetro che un tempo che io ero veramente piccolissima e facevano da tappa le gazzose sì prima di questi prima di queste perché questi erano erano oggettini di lusso si giocava anche con i tappini nella solita maniera con i tappini sì ora sulla spiaggia si faceva peggio con i tappini che erano molto più però queste mi ricordo i distributori fuori delle tabaccherie o dei negozi di giocattoli c'erano due tre macchinette di cui una era per le chewing gum e una era per le palline sì 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 è vero è vero ok andiamo ancora avanti oh andiamo adesso questo ce lo fai a YouTube perché io non ero ancora troppo tecnologica nonostante fosse più grande questo qua era uno dei giochi elettronici dei primissimi giochi elettronici si chiamava Space Invaders se non erro e lo trovavamo praticamente nei bar in quelli che adesso sono diciamo ma anche nelle piccole sale giochi che si trovavano nelle sale giochi anche in passeggiata mi ricordo al Lido di Camaiore ce n'era sparsi un po' in qua e in là adesso sono sostituiti purtroppo dalle slot machine invece prima c'erano sparsi sia in sala giochi che nei bar ora io ho detto Lido di Camaiore perché andavo a Lido di Camaiore erano un po' dappertutto a Firenze la sala giochi ce ne erano diversi erano in centro dove le persone rappresentavano anche oltre che un posto dove si andava a giocare anche un luogo di ritrovo specialmente per i giovani adolescenti e si ritrovavano in sala giochi comunque sia i sala giochi ci sono ancora però naturalmente con giochi di tutt'altro di tutt'altra spettacolarità questo invece era particolare erano degli vedete che è molto scarno dal punto di vista grafico venivano appunto si giocava con una moneta e questi questi ometti bianchi questi questi diciamo ometti che poi non sono altro che degli extraterrestri che dovevano invadere le basi a terra che sono queste verdi e man mano che passava il tempo questi scendevano sempre di più il compito del giocatore era distruggerli distruggerli ed evitare che questi piano piano toccassero terra e man mano che il giocatore distruggeva gli invaders questi scendevano a terra più velocemente quando il giocatore aveva distrutti tutti passava a livello successivo alla valle del vincio non c'erano queste sale giochi noi avevamo i carretti ancora noi facevamo ancora carretti sembra che tu sia nata in tempo di guerra no però a parte quello ora nelle campagne non c'erano le sale giochi insomma ma vabbè bastava andare un po' più la si a Pistoia nelle campagne di Pistoiesi non sei mica in Aspromonte no no però dovevi andare a Pistoia per le sale giochi quindi uno non poteva andare a Pistoia giocava col carretto giocava con tutto si trovava da giocare di tutto andiamo ancora avanti a vedere le nostre meraviglie del passato della gioventù che la nostra gioventù che fu oramai oh ecco qua questo è il monoscopio si chiama monoscopio della Rai allora poi diciamo a cosa serviva Alessandra questo rappresenta praticamente l'uscita della televisione a colori io l'ho messo lì proprio perché era proprio il simbolo di quando uscì la televisione a colori allora trovavamo questo monoscopio quindi quando accendevamo i canali Rai quando ancora non erano cominciate le trasmissioni spesso lo trovavamo la mattina ed ha una ha una funzione questo qua non è che è messo lì a caso qualcuno si è messo a fare questo disegno astratto e l'ha messo in tv no ha una funzione ben precisa è un test cioè serviva come test per aggiustare i parametri di colore i parametri di definizione della televisione era accompagnato a un segnale che so vi ricordate era un tu questo segnale aveva una frequenza particolare e serviva proprio per testare l'audio quindi il tecnico che riaggiustava i televisori oppure la parte tecnica che appunto era deputata nella gestione del segnale della Rai ed anche di conseguenza chi riaggiustava i televisioni poteva utilizzare il monoscopio per tarare la tv come vedete è composto da delle righe orizzontali che servono appunto per controllare la definizione quindi queste righe dovevano essere tutte nitide affinché il televisore funzionasse a modo poi c'erano degli altri riferimenti vedete queste righe un pochino diverse e poi una scala di colore che andava dal giallo al blu con tutta una serie di accorgimenti per far sì che quando si vedeva bene nitido questo monoscopio si poteva dire di aver tarato perfettamente la trasmessa e questa l'ho imparata anch'io perché non la sapevo era sincero era sincero era sincero non la sapevo tra l'altro era anche c'era anche in versione locale mi ricordo per chi montava i video dell'epoca c'era proprio un nastro con il monoscopio affinché si potesse utilizzare non era fatto così ma più o meno qualcosa di simile andiamo avanti ecco qua questo ce lo spieghi tu perché io non ho mai capito come si gioca eccolo qua ma come la campana tutti hanno giocato a campana come si gioca era un gioco da bambini era un gioco da bambini da noi giocavano anche i maschi comunque era vabbè ci voleva un sassolino e la cosa più bella è che ci ritrovavamo a cercare quei sassolini più piatti possibile perché arrivassero meglio ai numeri perché dovevamo tirare il sassolino e poi a zoppettino una gamba sola andarla a riprendere nelle riquari dove vedi in due in due dove c'è il due con un piede solo dove c'è il tre e il quattro allargavamo la gamba poi su giù su giù insomma vabbè la campana la conosciamo tutti via e cosa succedeva se uno sbagliava eh faceva la penitenza no no smetteva tornava indietro ricominciava dal numero che dove era rimasto per accattare il sassolino erano i giochi che spesso io mi ricordo si faceva a scuola durante la ricreazione in giardino anche anche io lo facevo nell'aia della scuola nella scuola tu lo facevi col carretto invece a zoppino con il carretto ci passavi sopra parliamo un po' prima di andare avanti con le slide Alessandra ma cos'è sto carretto era fatto allora da me si faceva con i resti tante volte delle casse di legno della filatura che contenevano praticamente i tubetti della filatura tessile insomma ma perché filatura tessile perché tu sei stata vabbè vabbè sì mio padre aveva una filatura comunque spiega uno un carretto pensa si faccia soltanto con i resti della filatura no noi le facevamo spesso con questo materiale qui delle casse di legno che contenevano appunto questi tubetti e poi ci mettevamo praticamente facevamo tipo una zatterina ci mettevamo i cuscinetti e con i cuscinetti dai quattro lati e facevano da ruote e poi i cuscinetti che erano e ci frantumavamo cuscinetto ripeto nudo e crudo senza di ferro poi c'erano i maschi che lo preparavano ad hoc e noi anche perché dove vivevo io dove sono nata io erano molto più maschi che femmini e quindi spesso giocavamo con giochi da maschiacce come tra l'altro oltre che il carretto la campana e i giochi che si facevano con poco c'era anche questo che cos'è? era il gioco dell'elastico era il gioco dell'elastico questo era effettivamente forse un po' più femminile forse un po' più femminile però ci hanno giocato un po' tutti si saltava di qua e di là ma più che si saltava di qua e di là era un'acrobazia a intorcigliarsi in un certo modo l'elastico tra le gambe e liberarsene insomma praticamente c'erano varie figure da seguire la 1 la 2 la 3 era più che altro un imparare a fare qualcosa più che un gioco imparare questo tipo di che poi l'elastico era proprio l'elastico quello che una volta era l'elastico della mutanda tutta una serie di elastici gli elastici vabbè l'elastico a metro che troviamo anche oggi insomma quello lo usiamo ancora si giocava con la roba che si buttava più o meno si o l'andavamo a fregare alla massaia alla cucitrice andavamo a fregare un pezzo di elastico Brooklyn il gusto lungo di Brooklyn e mi ricordo questo qui aveva uno slogan particolare il gusto lungo scopri il gusto lungo di Brooklyn questo era il le cingomme le cingomme nel pacchetto da 5 poi che diventò da 7 e poi mi pare da 10 no da 10 non lo so no non lo ricordo perché non è che io ne abbia mangiate mai tantissime di Brooklyn ora non lo so perché ripeto anch'io poi alla fine queste furano sostituite da un'altra splendida gomma che poi le spazzo via non so se l'hai vista fra le slide beh se non so non è così ce l'hai ce l'hai allora la vedremo l'hai anticipata l'hai anticipata l'hai anticipata l'hai anticipata comunque questo qua erano Brooklyn perché il ponte diciamo di Brooklyn perché chiaramente a Brooklyn si sa che una volta era diciamo una dei quartieri di New York dove c'era una grande comunità di italiani quindi Broccolin e quindi hanno preso un po' forse unito l'utile a dilettevole anche perché chiaramente non era una gomma che veniva dagli Stati Uniti non era una gomma che veniva dall'America ma bensì dalla Perfetti che era la diciamo fabbrica che appunto le produceva questa è tutta tua perché io onestamente non la ricordo però te l'ho messa volentieri perché ti piaceva tanto beh ecco non è particolarmente esaustiva questa immagine perché non si trova non si vede la gomma effettivamente l'abbiamo cercata e non si trova era un'altra gomma erano le gomme di paperone le gomme di paperone o di Walt Disney paper on dollars come scritto lì queste erano delle elac vedo bubble gum elac si si aprivano va bene erano lunghe si aprivano e all'interno c'era un dollaro che se era verde o marrone non vincevi niente ma ti tenevi questo dollarino per giocare se il dollaro era rosso vincevi un altro chewing gum eh io non lo ricordo quindi capito quando mi ricordo c'era scritto vinci un bubble gum forse lo più grandino noi lo pronunciavamo bubble gum però era bubble gum vinci bubble gum allora andavamo al bar e riprendevamo un'altra chewing gum gratis e mi ricordo erano anche cattive come chewing gum non lo sapevano non ho proprio ricordo aveva proprio il sapore della chewing gum classica di quella proprio vomitevole che comunque sia con il tempo è stata è stata diciamo tolta anche di mezzo perché ok queste erano particolarissime e soprattutto molto educative per i bambini erano le sigarette in chewing gum e ci divertivamo a tenerle così facevamo finta di fumare vero mi ricordo che queste qui trovavano spesso posto all'interno della calza della befana sì erano c'erano quelle e quelle di cioccolata sì che vero giusto quelle di cioccolata ma c'erano anche i dollari insomma le monete le monete quelle le troviamo ancora ancora sì comunque queste qui erano veramente in uso all'epoca eccola qua Daniela Goggi che faceva la reclame alle Big Bumble più soffice più sugoso più abbondante più gusto lungo più grossi i palloni ed era un chewing gum enorme masticoso che riempiva la bocca dei ragazzi non si faceva fatica a parlare quando c'era questo chewing gum in bocca pieno di zucchero e devo dire e faceva delle enormi bolle che si spiaccicavano spesso sul viso era diciamo in versione in versione unica poi dopo venne venne affiancato da un gusto nuovo che era la fragola mi pare la fragola e la mela mi sembra c'era la mela mi pare sì sì vero che erano molto buone erano quelle erano già un gusto diverso sa fare una scinga ma la mela all'epoca era rivoluzionario comunque le vere big bubble erano queste io le ho sempre considerate antigeniche perché molti ragazzi bambini insomma bambini dai facevano questi enormi palloni che poi scoppiavano andavano in faccia con la faccia piena di terra perché magari erano state se le levavano e se le rificiavano se lo toglievano dalla faccia sporca e se lo rificiavano in bocca inoltre poi ci giocavano facevano il filo tiravano giù io dico quanti germi abbiamo ingerito all'epoca con le big bubble chissà come mai quindi un uso forse che sbagliato della chewing gum ok andiamo ancora avanti e vediamo cosa ci riservano cosa ci riserva le slide di Alessandra questo bel paio di pantaloni cosa sono erano i levis 501 i primi levis i primi jeans diciamo che insomma con i bottoni i bottoni invece della cerniera infatti al posto della cerniera c'erano i bottoni io ricordo che mi piacevano tantissimo quelli strappati li andavo anche a prendere al mercatino di Livorno sì ed erano a tubo vero sì 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 erano molto maschili poi alla fine perché erano un po' squadrati non avevano le forme proprio del jeans femminile erano unisex ma più sul maschile però erano fantastici devo dire che qualcosa di molto simile è tornata adesso sì no poi credo il levis 501 c'è ancora sì sì comunque andavano tantissimo e l'ha indossati tanto Alessandra perché ho visto le fotografie li avevo sempre addosso ed eccola qua la radio sveglia la radio sveglia era un'invenzione questa qua straordinaria perché per la prima volta toglievamo di mezzo le sveglie meccaniche che facevano un baccano incredibile quel clic clac insopportabile tutta la notte furano sostituite dalle radio sveglie che facevano prendere una sincope quando si è poca musica però erano silenziose durante la notte abbastanza precise si poteva appunto come ha detto Alessandra far associare la sveglia alla stazione radio preferita quindi quando iniziava partiva anche la radio e se era sintonizzata male si sentiva inoltre però per uccidersi meglio c'era la seconda opzione era quella del bip il bip che era tremendo era pazzesco 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 eccole qua la radio sveglia in questo caso era della telefunche negli anni settanta tra l'altro se ti ricordi anche nelle camere ed al letto veniva messa all'interno del letto c'era proprio la radio sveglia incorporata si c'erano dei letti che erano per l'epoca un modello di alta tecnologia che erano semplicemente costituiti da una radio che era infilata nella testata spesso anche con la cassetta che si inseriva la cassetta tipo autoradio i letti musicali i letti musicali certo e dalla radio sveglia si passa al manuale delle giovani marmotte eh sì il manuale delle giovani marmotte era un un manuale dove c'erano diciamo delle illustrazioni c'erano delle linee guida per appunto un po' da sì da boy scout da boy scout diciamo che era un manuale di sopravvivenza con tutti i vari segreti ed esperimenti da fare comunque era molto educativo era molto educativo e tra l'altro era anche molto interessante pensate si era un'epoca nella quale non c'era di certo internet non c'era di certo il mondo del digitale quindi avere un manuale delle giovani marmotte significava avere anche delle competenze in più fra i ragazzi per poter affrontare che so la gita nel parco o diciamo la gita scout no no c'era veramente tante cosine io ricordo a me piaceva moltissimo e ti dirò di più non era neanche a buon prezzo no 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 costava 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 infatti cioè non tutti era un bel regalo era un bel regalo il manuale dei giovani marmotte poi veniva aggiornato mi sembra si si eccolo qua lo rivediamo a schermo intero e poi andiamo avanti perché c'è anche altra roba eccoli qua ma chi è che non se le ricorda eh l'album delle figurine panini ci scambiavamo mi ricordo io ti do scirea per zoff è vero è vero e c'erano anche dei giochi da fare perché queste qui andavano molto di moda quando io ero all'elementare a dire il vero cioè i ragazzi giocavano a figurine praticamente mettevano a figurina se non ho mai capito come si diceva perché a me il calcio non è mai piaciuto io non ho mai avuto un album delle figurine dei giocatori facevo l'album degli animali penso un po' e i giocatori però vedevo gli altri come facevano giocavano a figurine e la figurina che aveva un valore più alto non so con quale prendeva la figurina e la bersaglia praticamente c'erano dei ragazzi che venivano praticamente derubati di tutte le figurine un po' credo che siano state sostituite poi negli anni 90-2000 dai pokemon dalle carte dalle carte dei pokemon è passata di tempi eh sì però insomma erano sullo stesso principio per scambiarsi le figurine almeno a Firenze c'era questo modo di fare i ragazzini facevano vedere le figurine all'amico e via via che scorrevano lui faceva cielo 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 mi ma mi ma mi ma mi ma mi ma sarebbe mi manca cielo quindi a sua volta con questo metodo così veloce si scambiavano le figurine e guarda un po' si mettevano su quest'album si completava l'album una volta completato l'album te lo battevi no scusa vabbè era completato non era così facile no 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 perché poi quando arrivavi da ultimo non era facile no poi c'era anche la figurina che aveva un pregio che era lo scudetto che era diversa rispetto a altre figurine eccolo lassù 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 perché lo scudetto aveva diciamo una caratteristica differente era una figurina in oro che aveva in oro e argento perché non la vedi che te ne intendi e vabbè dici che non c'hai maggiore questo questo ne parlo io e parla da 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 vecchia sorcina il nostro Renato Zero il nostro grande Renato Zero gli anni di Zero Landia Zero Fobia io ricordo che l'ho visto la prima volta sempre con mio zio Maurizio perché parlo di zio Maurizio perché abbiamo più o meno la stessa età e abbiamo un po' vissuto molte cose insieme al teatro tenda e era l'anno che poi uscì Mi Vendo da Zero Fobia e nessuno lo conosceva diciamo no quindi quando lo vedi dissi mammo chi è questo perché tutte le sue quello che è stato poi Renato Zero e vabbè poi con il tempo non importa parlarci tanto sopra in questa occasione saluto due care amiche con cui ho condiviso questa grande Antonella e Cristina ciao Antonella e ciao Cristina adesso lasciamo Renato Zero siamo a 43 minuti sono le ore insomma 43 minuti dall'inizio della trasmissione e quindi dobbiamo correre con queste slide ebbè ce ne sono altre abbiamo il Moncler i Paninari giusto? sì il Moncler il vino gli anni dei Paninari dai quando c'erano le scarpette il Moncler e tanta roba e le Timberland la Sfitinzia era la ragazza è quella al tempo di Drive-In mi ricordo tante cose sono lasciate questa cosa è il gioco della bottiglia Dio mio chi è che non ha giocato alla bottiglia il gioco della bottiglia aveva speravamo sempre venisse cioè cercavamo di mandarlo nel modo e nella maniera che andasse su chi doveva andare per poterlo baciare ebbè il bacio era diciamo la penitenza per poi penitenza tra virgolette insomma no perché poi alla fine si sperava di andare a baciare sempre la persona giusta poi ognuno poi ci metteva in palio quello che voleva e questo è il mitico ciao il mitico ciao abbiamo viaggiato in due malgrado la legge ce lo proibisse stava uno praticamente con il culo scusate il termine sulla punta della sella e quello dietro quella dietro con il sedere che sporgeva mezzo fuori come cavolo era possibile poter viaggiare in queste condizioni però si faceva io avevo il bravo anch'io avevo il bravo non ho mai avuto il ciao ho avuto il bravo anch'io avevo il bravo era pesantissimo e sinceramente non andava un cazzo scusate queste scarpe le zeppole le zeppole degli anni 70 beh le zeppole degli anni 70 queste però sono un po' precedenti agli anni 80 si degli anni 70 degli anni 70 appunto si l'ho detto le zeppole degli anni 70 la gomma oh chi non la ricorda responsabile dei buchi dei buchi nei quaderni portava via tutto non solo cancellava proprio disintegrava più la usavi e più bucava si e qualcuno aveva anche la bella idea pensando di cancellare meglio di metterci la punta della lingua ecco per strisciare bucare meglio il foglio perché chiaramente una volta bagnata era sì che bucava la gomma rotonda però tra le gomme era quella che cancellava meglio eh per forza disintegrava tutto tutto andiamo ancora avanti il frisbee chi è che non l'ha preso in testa eh beh questo è il boomerang ce lo siamo sì ce lo siamo beccati tutti e il frisbee vabbè si usa ancora però diciamo che è diciamo un'attrazione degli che è nata proprio fine anni 70 iniziò anni 80 sì sulle spiagge te li vedevi proprio volare sulla testa diciamo che anche se non giocavi tu ce l'hanno portata gli americani dagli stati uniti questa cosa e credo che o gli inglesi non lo so non lo so ora non ricordo che forse lo usavano già da prima eh beh sì andiamo ancora avanti la polaroid eccola qua è tornata adesso questa qua sui banchi originali con tanto di pellicola che esce fuori è tornata e costa un patrimonio a me arrivò nel 75 76 in un pacco da degli zii che praticamente abitavano in Florida in America da mia zia dell'americana che poi nata a Napoli sposato un americano sempre guardando ecco qua il primo orologio con i numerini che appunto era l'orologio digitale a cristalli liquidi che appunto sostituì l'orologio meccanico cioè sostituì si affiancò all'orologio meccanico gli orologi meccanici ci sono ancora grazie a Dio non sono scomparsi però questo è il caso resistente all'acqua per 100 metri 100 metri sì veramente precisissimo con tanto di sveglia e luce però più si figiava la luce e più si scaricava la batteria questo ce ne parli tu questo ragazzi è un lavorone bisognerebbe avere un'ora di tempo per parlare di questo questo era lo stabilizzatore lo stabilizzatore che veniva messo praticamente sotto la tv nel mobiletto e veniva attaccata alla corrente e a sua volta la tv invece di prendere corrente direttamente dalla presa prendeva corrente da questo stabilizzatore e serviva per proteggere il televisore da sbalzi di tensione e disturbi ci ho sempre creduto poco io in questo caso perché quando ero piccolino l'ho aperto l'ho aperto e ho visto che dentro c'era un bel po' di pesce e quindi per renderlo pesante quindi mi sono chiesto ma perché tutta sta pesce allora non potevano farlo più piccolo forse chissà ci sei rimasto male no sinceramente non c'era niente dentro c'era un coso di pesce però questo qui si trovava sotto i televisori si accendeva prima questo no il televisore rimaneva mi sembra sempre acceso non lo so non ricordo io questo non lo ricordo rimaneva sempre acceso perché non era sotto tensione si accendeva questo dopo un po' essendo un circuito valvolare quello del televisore aveva un po' di tempo prima di accendersi si accendeva si doveva riscaldare si diceva un tempo e poi iniziava a funzionare sotto c'erano questi era molto consigliato averli oh non c'è più niente siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine quindi con lo stabilizzatore si finisce la trasmissione eh beh io questo ho trovato però c'è tante cosine eh c'è tante cosine che ci hanno riportato un po' indietro con il tempo si e ci hanno fatto fare anche 50 minuti di trasmissione interrotta ma di quegli anni di quegli anni ci sarebbe da parlare come poi per tutti perché poi le nostre gioventù sono sempre gli anni migliori no? sono state le nostre gioventù chi è che non sentivo mia madre diceva la stessa cosa tua madre dirà la stessa cosa noi i nostri mitici anni 80 sono gli anni della nostra gioventù che poi quella non è stata mai anche lasciata perché ce la portiamo dietro ancora la disco music degli anni 80 rifatta rimixerata era anche l'anno delle discoteche prima c'erano le balere disco ring disco ring e quindi poi il disco che diventava uno strumento quello vino con quella con la faccia la faccia la sfera di vetro che poi era quella che troviamo nelle discoteche che se ben mi ricordo era condotto da Gianni Boncompagni all'inizio mi pare Claudio Cecchetto no è venuto dopo Cecchetto è venuto dopo non lo so non mi astendo si se ben mi ricordo era Boncompagni quindi ricordi anche tu è stato il titolo di questo nostro episodio di Panorama Notizie che è arrivato al termine noi vi salutiamo vi diamo appuntamento per il prossimo per i prossimi episodi ci avviciniamo anche alla primavera quindi ci avvicineremo anche agli ultimi episodi perché come appunto lo annunciamo già da adesso noi a marzo termineremo con Panorama Notizie per lascia a posto a tutti le nostre escursioni alle nostre escursioni e quant'altro alle nostre cose non ci perderete di vista perché praticamente passeremo dalla poltrona al sentiero giusto? però la gocciolina cinese ci stiamo attrezzando anche per appunto regolarizzare quelli che sono gli aspetti che interessano il drone e quindi ci sono dei cambiamenti al merito quindi dovremmo in un certo senso già stavi facendo qualcosa ieri vero? mi sono bloccato perché ho sbagliato a registrarmi vedremo un altrimino come fare a risolvermi a risolvere questa cosa comunque il drone dovrà essere regolamentato da una serie di normative che sono entrate in vigore quest'anno che non permettono più di comprare un drone e volare così cioè bisogna mettersi in regola pagare una tassa iscriversi a un sito che appunto farà riferimento all'ENAC che si chiama di flight ve lo dico tanto poi ne dovremo un giorno parlare anche e mi sembra anche un po' giusto che appunto fornirà le mappe ufficiali verso le quali ci dovremmo attenere sia come diciamo possessori di droni e le autorità dovranno fare altrettanto per appunto appurare se quelle sono le zone giuste o meno per poter volare quindi i riferimenti saranno 1 e non 100.000 mappe e questo mi sembra anche giusto così una volta uno che individua le mappe del sito ufficiale nessuno potrà contestare le zone quindi ci sono delle cose da fare ma ne parleremo per quanto riguarda questo episodio noi vi salutiamo e seguitici su e ora andiamo con il promozionale eccolo qua come sempre www.spazioinformazionelibera.com condivisione e approfondimento di notizie dal mondo il nostro blog iscrivetevi al nostro canale youtube seguiteci su facebook e perché no anche su instagram detto questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per il prossimo episodio ciao 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 Grazie a tutti